il palco che è giornalista chi è il giornalista di cosa dalla voce di via io riesco a spiegare come tutti gli anni io ho scelto la canzone di Aogheri natalissimi tra di tele più spiegati abitanti i due miei anni che purtroppo ricordiamo non hanno un film anche una volta accorto a me per aver visto non c'è altro per farlo per scoprire i miei anni dopo i geni i miei anni purtroppo ha illuminato per estornare il salito di qualche al passaggio da sopra di una bella del a sia di sette il nostro salito di intelligenti di San Martino con un testo del rinè e tanto di un testo ma per fortuna quando si stava assurando la tragedia a Madonna all'argetto non è scritto perfetto nonostante il mal tempo si potessi comunque annorare la nostra patrona offrendo come sempre il spettacolo di felicità da essere qui anche sotto il deludio e se seguiremo che è male per andare avanti non senza pericoltè e non senza diritti ma senza punti di vista perché la nostra fede e la nostra faccione non veniamo mai a mancare ma anche i documenti del rinè e la nostra famiglia non è stata la nostra famiglia e la nostra famiglia non dobbiamo sempre con i maschi dei due di quartier Bastia applausi di San Martino di San Martino e di San Martino e di San Martino dell'amministrazione comunale e di San Martino che vi apporto e di San Martino e di San Martino Viva l'esco, viva l'esco, viva l'esco, viva il quattro